TORMIAMO DOMANI SERA Non scappo via, così vedrai, non esistono i fantasmi! Chowder, basta! Ti prego, dico sul serio! Ogni casa... TORNA QUI! ...ha un segreto. La casa è... VIVA! Dai produttori esecutivi Robert Zemeckis e Steven Spielberg... Dobbiamo batterci! Auguri, DJ, qualunque cosa siamo qui! Preparatevi... ...a passare... ...dall'altro lato della strada! Monster House! Agente, abbiamo buone ragioni per credere che ci sia una creatura pericolosa in quella casa! E' chi appa le cose, le tira dentro e le mangia! Ci vediamo! E' chi appa le cose, le tira dentro e le tira dentro! E' chi appa le cose, le tira dentro e le tira dentro e le tira dentro!